E' emerso il discorso della volatilità dei prezzi che è un po' una questione complicata sulla quale diventa un po' difficile sbilanciarsi e soprattutto il confronto tra le parti quanto può essere utile. Che cosa è emerso da questa giornata secondo lei? Questa giornata si conferma che il confronto tra le parti è fondamentale. L'analisi dei mercati anche per il fatto che la volatilità è sempre più forte diventa sempre più importante e necessario anche perché ci sono diverse sfumature, diversi aspetti che vengono visti dal mondo della produzione piuttosto che dal mondo della trasformazione ed è giusto che si incontrino per fare una sintesi e trovare delle soluzioni, degli interessi di tutta la filiera. Oggi è venuto fuori la mancanza della parte istituzionale in questi anni in un settore che sente diversi contraccolpi dettati anche dalla crisi. È vero? È così? Non sono totalmente d'accordo. Direi che la parte istituzionale è sempre stata presente in una maniera più forte o meno forte a seconda anche della nostra chiamata. Quindi in questi ultimi anni probabilmente ci siamo dovuti fermare a un passo precedente a quella che era la parte istituzionale, cioè alla richiesta di interventi perché non riuscivamo a risolvere dei problemi alla partenza delle nostre discussioni. Però credo che rimanga sempre importante la presenza istituzionale e ritengo che a seconda poi delle rappresentanze che ci sono state, ci sono state più o meno vicine ma comunque sono sempre state presenti. Per il futuro, chiaramente nessuno ha la sfera di cristallo, però insomma che cosa si può così suggerire rispetto a voi che avete comunque dati alla mano cercando per quanto possibile un po' di analizzarli per quanto riguarda questo comparto. Quali difficoltà potrebbero essere a breve termine e presentarsi a breve termine secondo il vostro osservatorio? Noi sul futuro cerchiamo di essere sempre ottimisti, se no non faremo neanche gli imprenditori. Quindi l'ottimismo ci viene dato dal fatto che comunque il nostro brand made in Italy funziona molto bene, le qualità dei nostri prodotti sono stimate e apprezzate in tutto il mondo. Oggi si parlava anche di Italian Sounding, secondo me è un'ulteriore dimostrazione che i nostri prodotti sono talmente buoni che tutti li vogliono copiare e li vogliono copiare perché probabilmente possono dare delle opportunità di vendita migliori e forse a prezzi più elevati ed è quello su cui dobbiamo batterci. Quindi diciamo un po' di sano ottimismo e lavoreremo duro come abbiamo sempre fatto per ottenere il massimo dei risultati per le nostre imprese, per il sistema di tutta la filiera e per il nostro paese.